E' il contenuto della delibera approvata dalla Giunta Comunale per consentire a tutti di poter lavorare quando da lunedì la Puglia passerà in zona gialla. Il DL Riaperture infatti prevede la possibilità del consumo al tavolo, esclusivamente all'aperto. Per questo l'amministrazione comunale, limitatamente al periodo emergenziale, ha approvato un regolamento contenente le norme per l'occupazione di parte della pavimentazione stradale, limitatamente allo spazio destinato al parcheggio. Sarà possibile quindi installare pedane a livello dei marciapiedi esistenti su parte della carreggiata stradale, per l'installazione di sedie e tavoline all'aperto. Potranno presentare richieste ai ristoranti, fast food, rosticcerie, frigitorie, pizzerie, birerie, pub e denoteche e altri esercizi simili. Nella zona di particolare rilevanza urbanistica non sarà possibile occupare più di un posto auto per esercizio di ristorazione, mentre nel resto del territorio comunale la massima superficie occupabile sarà di due posti auto.